ciao da parte di alessio minconi e benvenuto nei miei canali voglio presentarti il corso jazz academy e spiegarti di cosa si tratta è un video corso che ho costruito dedicato esclusivamente a tutti coloro che vogliono partire da zero con la conoscenza del jazz e che quindi arrivano magari con anche una buona conoscenza tecnica da altri generi come pop blues o rock e vogliono sviluppare un linguaggio un po più ampio e fantasioso che non necessariamente deve essere applicato solo alla musica jazz ma può essere applicato a qualsiasi genere quando suoniamo i nostri assoli e le nostre amore. Sono tre livelli il primo è un livello base il secondo un livello intermedio e il terzo è un livello super avanzato puoi partire da livello 1 e farli tutti e 3 o partire dal 2 o direttamente dal 3 questo dipende dalle tue conoscenze e anche da un eventuale consulto mandandomi un messaggio o un email. Nel corso troverai una serie di lezioni nel primo livello ad esempio sono 36 nel secondo 30 della durata media di 10 minuti l'una e è contenuto anche un percorso didattico di studio di una settimana tipo in modo tale che tu ogni giorno sappia cosa devi fare e per quanto tempo. I requisiti minimi che ti consiglio per cominciare a studiare con il jazz academy 1 sono la conoscenza di scale maggiori e minori naturali almeno in due posizioni l'una pentatoniche minori maggiori triadi minori e maggiori. Per quanto riguarda l'ingresso nel livello 2 ti consiglio di essere in grado almeno di suonare gli standard più semplici che sono quelli che sono visti poi nel livello 1 blu bossa autumn leaves setting doll questa tipologia di standard riuscendo a stare dentro la struttura e a seguire almeno per quanto riguarda scale ed arpeggi gli accordi base. Puoi acquistare il corso solo un livello come ho appena detto oppure tutti e tre livelli in un unico pacchetto dal sito alessio menconi guitar institute punto com per qualsiasi domanda non esitare a mandarmi un'email e ti risponderò appena possibile ti ringrazio e buona musica ciao 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 ciao